Bene, eccoci qua, buonasera, ben ritrovati, ben ritrovati. Siamo oltre la metà, oggi è la lezione numero 15 credo su 28, o la 16, una cosa del genere, del nostro corso di didattica dei media. Stasera gradito ospite, lo vedete già proiettato alle mie spalle, l'avvocato Simone Liprandi, che ringrazio tanto per aver accettato il mio invito a venire qua e a parlarci un po' di temi che in piccola parte, da profano, diciamo, da persona che ci si è avvicinato soltanto per necessità e non per studio, vi ho anticipato. Quindi temi di copyright, di gestione del diritto d'autore, di tutela del diritto d'autore, legati al digitale che abbiamo detto, no, è il nostro ambito di sguazzamento per questo percorso di 28 lezioni insieme, 56 ore di corso totale. E quello del copyright è anche un tema presente nel nostro riferimento assoluto, che è il DigComp 2.2, no, un cittadino digitale, digitalmente competente, deve saperne un pochino anche di questo, o può saperne un pochino anche di questo, più diventa esperto, più diventa digitalmente competente in quell'ambito lì specifico. Siamo dentro la terza area di competenza, grosso modo, ma con buona approssimazione, siamo sulla terza competenza di quell'area, e io non aggiungo molto altro, posso soltanto dire che una piccola nota biografica sull'avvocato Riprandi, che è anche un amico per me, abbiamo fatto il dottorato insieme, anche se con uno sfasamento di un anno, mi pare, e ci siamo conosciuti quindi qua in Bicocca, quando voi eravate in tutt'altro ordine di scuola, perché siamo due anziani rispetto a voi, nati sicuramente, 16-17 anni fa eravate nati per forza, e ci siamo trovati su un interesse comune, che è quello per l'openness in realtà, io da manettone del software open source, lui più da persona intellettualmente preparata, che si occupava già allora di licenze, ma faceva il tifo diciamo in qualche modo per tutto il mondo dell'open, cioè del software open, della creatività, dei prodotti creativi rilasciati con licenze aperte, eccetera, ha un passato poliedrico anche lui, come l'altro ospite che vi ho portato qua settimana scorsa, tanti interessi vari, stasera gli ho chiesto di concentrarsi su questo, che è uno diciamo dei suoi cavalli di battaglia, anche perché c'è questo risvolto legato all'avvento delle tecnologie, legate all'intelligenza artificiale generativa, che sono diventate un po' un sottotitolo, ma che saranno presenti qua dentro, che è stato, possiamo dire, il tuo ultimo lavoro di pubblicazione, l'ultimo libro, e su quel tema lì ha avuto anche un buon successo, quindi è interessante perché un tema che magari poteva risultare un po' di nicchia fino a qualche anno fa, con l'esplosione dell'intelligenza artificiale, acquisisce nuovo lustro, nuova appetibilità, anche perché si crea una frontiera nuova da questo punto di vista, e su questo appunto poi lascio a Simone Riprandi, che ulteriormente ringrazio la parola, io sto registrando, la registrazione sarà disponibile poi, come di consueto, sulla pagina del corso, ma grazie in particolare a voi che siete qua in presenza, l'invito è quello di, come siete abituati anche con me, penso di poter dire, di interagire alzando la mano, chiedendo, intervenendo, senza preoccuparvi di fare domande che vi possono sembrare troppo banali o troppo da inesperti, perché siamo qua apposta, per far crescere le vostre competenze digitali a tutto tondo. Bene, non rubo altro tempo, andiamo così poi verso le, se è un quarto, se è venti finiamo come al solito, se ci dilunghiamo un attimo, poi valutate voi, quando dovete per forza scappare, però ci siamo. Grazie, lascio la parola a Simone Aliprendi. Grazie, grazie, il dottorato era 2008 all'inizio, ti rendi conto? 2008. 2008, giusto per la battuta sull'età, ieri ero fuori a cena, ero fuori a cena in un ristorante a Lodi, io sono di Lodi, e ho detto, io a questo ristorante ho fatto la prima comunione, e intanto c'era la cameriera che stava versando il vino così, e ho detto, era l'89, c'era la cameriera, si è ghiacciata nelle vene, tipo, era una ragazza, una ragazza che era tipo, avrà avuto 19-20 anni, quindi l'ho sentito l'89. Va bene. Allora, ragazzi, buongiorno, il fatto del, quello che ha già detto, sulla necessità, per chi si occupa di digitale, di conoscere il diritto d'autore, il copyright, sembra una cosa banale, ma è una cosa degli ultimi anni, nel senso che io mi occupo di questo tema, è lontano il microfono forse. Noi ti sentiamo bene, ma devo controllare che arrivi il segnale in registrazione. Sì, è una cosa nuova, nel senso che io quando mi sono iniziato, ho iniziato a occuparmi di questi argomenti, che era, non proprio quando ho fatto la comunione, ma un po' dopo, quindi era il 2002, più o meno, 2002-2003, alla facoltà di giurisprudenza, la cosiddetta rivoluzione digitale era, all'inizio, diciamo, si iniziava a parlare di internet, internet intesa proprio vecchio stampo, quindi web 1.0, nel senso pieno del termine, cioè i primi anni 2000. Però ecco, il diritto d'autore, il diritto della proprietà intellettuale, era materia, per addetti ai lavori, cioè se ne occupava, se facevi l'editore, se facevi l'autore, in senso professionale del termine, se facevi lo sviluppatore di software, se facevi il fotografo, però erano professioni, che per loro vocazione, creavano contenuti, ed erano interessate, a conoscere, come si tutelano i loro diritti, oppure, se dall'altra parte, eri un editor, una casa editrice, una casa discografica, un'azienda che produce software, io vengo da Lodi, noi lì abbiamo Zucchetti, ad esempio, quindi, però erano quasi sempre soggetti professionali, quindi, era considerata materia, appunto, per addetti ai lavori, tant'è che anche la giurisprudenza, quella materia lì, si studia, al quarto anno, dando per scontato, che tu abbia già fatto, un bel po' di esami di diritto, ok? Adesso, da quando appunto, io ho iniziato a occuparmi di questa materia, dopo la laurea, e a iniziare a fare formazione didattica in università, mi chiedono corsi di formazione su questa materia, o lezioni, seminari come quello di oggi, anche da ambienti, da cui normalmente, tradizionalmente, questa materia non si tratterebbe, perché? Perché effettivamente, come diceva Andrea, essere un cittadino digitale, essere immerso in questo mondo, ti richiede comunque, un minimo di consapevolezza, su cosa vuol dire, riutilizzare un contenuto di qualcun altro, ad esempio, quindi non devi necessariamente essere, un autore, un fotografo, uno che scrive, uno che sviluppa siti web, che sviluppa software, puoi anche essere, un semplice utente, che però, saltualmente, si trova a dover, riutilizzare, non so, faccio la locandina, ecco, faccio una locandina, per un seminario, no? L'attività che, chi si occupa di comunicazione, voi appena fuori dalla laurea, dall'università, potreste trovarvi a, lavorare per un ufficio di comunicazione, faccio, devo fare una locandina, per un evento, mi serve l'immagine, qua cosa abbiamo fatto, abbiamo usato Bing, create, il suo nome vero è, Image Creator, ah sarebbe da, sì, è Image Creator di Bing, che usa sotto il modello di Bing, di da lì, che quindi è sempre, Open AI, e abbiamo detto, fai un'immagine di Simone Riprandi, che fa una lezione, in università, ha usato un Simone Riprandi, più magro, più giovane, come avete notato, e con più capelli, però aveva imparato, probabilmente conoscendo, io faccio un po' di queste cose, quindi probabilmente nel modello di addestramento, c'erano dentro un po' di foto mie, un po' di locandine, di altri eventi, e mi ha imitato, vagamente, ha imitato anche un po' le aule di Bicoc, cioè alcune aule di Bicoc, quelle un po' più di rappresentanza, sono così o sbaglio, no, quindi non è andato tanto lontano, però ecco, cosa vuol dire, che anche una persona, che non lavora in una casa editrice, non si occupa, a livello professionale, di contenuti, di creazione di contenuti, perché non è un fotografo, non è un grafico, saltoriamente si trova ad avere, l'esigenza di creare un contenuto, che, si è spento tutto, no, ah ok, no, si è andato in buio, perché non lo riprende? si trova a porsi la domanda, ma io posso utilizzare questa immagine? In quali termini posso utilizzarla? Allora forse è meglio che la creo io ex novo, tutte queste domande che, immagino, vi troverete a dovervi porre. L'obiettivo di questo seminario è che, in un'ora e venti, un'ora e mezza ovviamente, non vi può dare la preparazione di un giurista, non diventerete dopo un'ora e mezza degli esperti di diritto d'autore, però l'obiettivo è quello di farvi almeno accendere le lampadine giuste al momento giusto, per evitare almeno le goffaggini peggiori, cioè le ingenuità peggiori, esempio di ingenuità, mi serve un'immagine per la locandina, cosa faccio? Cerco su Google Immagini, la prima che mi piace la prendo, no, ecco, sembra banale, però non sapete quanta gente viene da me per una cosa del genere, come avvocato intendo, a chiedermi, a doversi difendere, perché poi ha messo sulla locandina, o sul suo blog, l'ultimo è stato una tizia che aveva un blog, che aveva preso le immagini con questo metodo qua, e mi serviva un'immagine, abbiamo fatto un articolo su, si parlava di cucina, non lo so, abbiamo preso una foto che ci piaceva di una pizza, però questa foto l'aveva fatto un fotografo, il quale non ha molto gradito questa idea, e su 100 casi, 99 vanno lisci, perché la gente non si accorge, la gente non ha voglia di spendere soldi per l'avvocato, a volte invece c'è quell'1%, quel 2% di casi, di soggetti che ti mandano la lettera di diffida, la mail con la richiesta di denaro, di risarcimento, cerchiamo almeno quindi di uscire da questi rischi di base, e darvi un'idea anche per poter discutere dell'argomento, con un minimo di consapevolezza, poi non so quanto tu li interroghi su questo seminario, immagino, cioè sarà oggetto dell'esame, e quindi dovete saperlo comunque, perché sennò non vi promuove all'esame il professor Mangiatò. Allora questo sono io, mi ha già raccontato un po' di storia, però ecco vi lascio più che altro, se siete tagliate la... Sì, se si è iniziato qualcosa... Sì. Scusate in termini tecnici. Sì, esatto. Però dicevo, questo ve lo faccio vedere più che altro, così intanto vado avanti, per dirvi che io sono molto presente online, forse è troppo secondo alcune. Però adesso è questo, perché diciamo un po' di storia. Vi ricordate quando parlavamo del diffondere la propria identità online, che vuol dire anche difendere la propria identità online? Più si assume un ruolo pubblico, e si basa anche la propria professionalità, sul fatto di essere visibile online, come fa Simone Aliprani molto bene, il fatto di avere una sfilza di punti di appoggio, vuol dire che se un domani qualcuno che ce l'ha con l'avvocato Aliprandi, perché ha gestito una causa per un suo cliente, gli è diventato antipatico, si mette a cercare di infamarlo in qualche modo, questa barriera di pagine dove lui ha chiaramente impostato la sua opinione sul mondo e tutto quanto, è una tutela in più rispetto a quello che potrebbe succedere con le nostre identità online, a tutte le questioni che abbiamo già visto. quindi ho fatto un rapido ponte alle nostre lezioni. Sì, ecco, sull'aspetto della web reputation, io non me ne occupo direttamente, però fa parte diciamo del branding, nel senso che nella mia materia, proprietà intellettuale, oggi parliamo di diritto d'autore, però ci sarebbe anche la parte su il marchio, e il marchio è anche l'immagine tua, cioè quello che il tuo nome rappresenta come marchio, e, ripeto, materia molto complessa e su cui probabilmente non sono nemmeno io il più qualificato per parlarvene, però ecco, questo era per dirvi che sono molto presente, ma soprattutto per dirvi che se le cose che diciamo oggi, che diremo in modo un po' così, per sommi capi, perché in un'ora e venti, un'ora e mezza non si può fare diversamente, se qualcuno però è interessato perché ci vuole fare la tesi di laurea, vuole fare, che ne so, un approfondimento perché appunto sta già lavoricchiando in qualche settore, c'è tutto, perché ad esempio sul mio canale YouTube ci sono interi video, tipo quello che stiamo registrando oggi, ma più lunghi, c'è quattro ore di lezione sul diritto d'autore, quindi trovate tutto quello che vi serve, e probabilmente se appunto dopo abbiamo il video, lo metterò anche lì, in modo tale che magari lo taglio in unità di quarto d'ora, venti minuti, perché nessuno si guarda un video di un'ora e mezza intero, magari lo tagliamo un po', e ve lo potete, come dire, e condividere anche con colleghi e amici che non hanno avuto la grande fortuna di essere qua oggi con noi, e possono vedersi, però ecco, sicuramente, esatto, ok, anche le slide, le ha già caricate, ma ve le teniamo momentaneamente nascoste, perché altrimenti mi toglie l'effetto sorpresa su un paio di passaggi, quindi le avrete appena, appena finisce la lezione, a Lorenzo,